La BCE ha portato il costo del denaro al 3%, appena deciso dalla Banca Centrale Europea, essi già a marzo andremo al 3,5%. Quindi saranno inevitabili ulteriori aumenti dei tassi di interesse per tutti i tipi di finanziamento, sia dei mutui casa, sia per quanto riguarda i prestiti alle imprese. In Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di famiglie che hanno un mutuo casa e la maggior parte sono a tasso variabile. Un aumento di un 45% o 43% per quanto riguarda il costo del denaro a tasso variabile, chi pagava una rata media di 500 euro per quanto riguarda un mutuo adesso arriverà a pagarne 715. Stessa riflessione per le imprese, ci sono soluzioni? Sì, negoziare con la propria banca, parlare con il proprio istituto di credito e trovare soluzioni che vadano bene sia alla famiglia che all'impresa. Alla prossima!